buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluziona l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di new york che mi chiede come fare per cambiare mentalità come fare per cambiare mentalità perché questo signore da più di 15 anni fa il cameriere e vuole veramente svoltare avere successo avere coraggio sopportare la pressione fare la svolta della sua vita e mi chiede dottore le ho provate tutte ho letto tanti libri ho partecipato a tanti corsi qui in america ma mi sento bene il primo mese secondo terzo mese poi ritorno sempre alla mia solita vita che cosa può fare l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola per cambiare la mia mentalità e cambiare il mio destino la mia il mio futuro e io gli ho consigliato senza stare lì a dire tante parole di scaricarsi un audio molto potente di cs dal titolo ego entusiasmo per capire di cosa sta parlando ok ego entusiasmo è uno degli audio di cs molto potenti che ti cambieranno la vita che ti cambieranno la vita ok fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis devo scappare adesso compatibilmente con i miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio scusami per la velocità ma mi chiamano ciao